Registro un po', perché se no, se faccio foto, non finisco più. E' ricchissimo questo museo. Regno d'Italia, Austro-Ungarico, secondo e terzo Reich, il Regno Unito. E anche qua, lì Andrea, anche qua, vedi sempre... Certo che portarsi dietro una mese del genere, sai, è un po' faticoso. Bene, qua siamo un parco di inglesi. Anche qua sempre armi, fucili e quant'altro. E questo qua chi è? Secondo te? E questo qua. Boyz America. Boyz America. Marine. Massica chewing gum. American. America. Scusa. Mentre, mentre. Adesso andiamo giù dal basso. O. 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 O.